Due nuove panchine e la dodicesima Little Free Library della città impreziosiscono il parco Trulla del quartiere Pantano di Pesaro grazie ai doni di Altro Giro, il circolo virtuoso della Onlus Gulliver che continua a rendere più belli, più funzionali e di riflesso più frequentati i parchi giochi cittadini. Altro Giro sta funzionando benissimo, un progetto Onlus Gulliver Comune di Pesaro stiamo riqualificando i parchi, questa mattina inauguriamo la Free Library con due panchine nelle prossime settimane faremo altre opere di intervento con altri giochi e altre Free Library. Il progetto va benissimo e vediamo la risposta dei quartieri, dei cittadini, quindi siamo molto contenti. Noi finanziamo queste riqualificazioni, l'acquisto di questi giochi, di queste panchine, di queste library attraverso il circolo del riuso della Gulliver, quindi il nostro invito a tutta Pesaro è di portare nelle sedi della Gulliver, piazza Redi, via Rossi, via Toscana, le cose che non si usano più dagli indumenti ai piatti, alle forchette, qualunque cosa che in casa non si usa più può essere utilizzabile, noi principalmente lo doniamo a famiglie bisognose, poi vengono messe nelle nostre botteghe con una donazione, i cittadini le prendono e con queste donazioni le compriamo i giochi per i parchi. Siamo alla dodicesima Free Library Gulliver in città e funzionano, vediamo nei parchi le famiglie che nei pomeriggi vanno, prendono i libri, portano a casa e riportano, quindi è un progetto che sta funzionando molto bene. Una sinergia proficua fra Gulliver e Comune che ha presenziato alla donazione con tre assessori della giunta. Questa collaborazione, almeno da parte nostra, sta funzionando benissimo, vuol dire che la gente porta alla Gulliver cose che non utilizza più, Gulliver le rimette sul mercato e il ricavato viene ridistribuito alla città, quindi grazie ancora per quello che fanno tutti i volontari della Gulliver, ci aiutano anche a pulire i parchi perché non si limitano solo all'acquisto di giochi ma abbiamo messo in piedi una squadra che assieme a Marche Multiservizi lavora per la pulizia dei parchi e ce ne fossero tante altre di questa realtà. Un'unione di intenti che da Gulliver a Comune si declina nel coinvolgimento dei quartieri. Devo dire che c'è molta partecipazione, stiamo facendo vari progetti e questo oggi è un esempio di coalizione tra l'amministrazione, i quartieri e anche le associazioni che lavorano insieme ai quartieri. Si sta creando una bellissima sinergia dove c'è un valore, il valore è anche quello del senso civico che stiamo tramandando anche tramite la pulizia dei quartieri, tramite il progetto anche le camminate del cuore, quindi c'è un grande supporto da parte delle associazioni, il consiglio di quartiere. E non finiranno qui gli interventi al Trulla che rientra fra i quattro progetti inclusi nel bilancio partecipativo. Il quartiere che è stato tra i promotori e finanziati del progetto del bilancio partecipativo è una sperimentazione che abbiamo lanciato l'anno scorso che ha visto quattro quartieri risultati vincitori e tra questi c'è appunto il quartiere di Pantano che ha presentato un progetto di riqualificazione e di restyling di questa bellissima area verde. L'intervento consisteva nella sistemazione di alcune parti di giochi, la sistemazione del campo da calcetto con la sostituzione delle porte, delle reti e anche una nuova struttura da calisthenics. Abbiamo visto come anche gli interventi passati, gli investimenti passati su queste strutture sportive funzionano e sono molto apprezzate da parte di tanti ragazzi che si stanno avvicinando anche a uno stile di vita più sano riscoprendo gli spazi aperti e anche lo sport all'aria aperta. Quindi qua in questo parco andremo a realizzare insieme con il quartiere e nelle prossime settimane inaugureremo una nuova struttura da calisthenics condivisa appunto col quartiere.